Completamente fermo da questa mattina il servizio di Circom Vesuviana, Seps, Circom Flegre e Metro Campania per lo sciopero di quattro ore proclamato da CGL, CISLUIL e UGL e che ha interessato i lavoratori delle aziende del gruppo EAV. Secondo le sigle sindacali le percentuali di adesione sono altissime. La mobilitazione è stata proclamata, ricorda il segretario generale regionale della Filt CGL Mario Salsano, per rivendicare dal governo nazionale e dalla giunta regionale della Campania le risorse necessarie a garantire il normale servizio di trasporto e le prospettive di rilancio del trasporto pubblico locale. Senza questi finanziamenti, dice Salsano, non c'è futuro per l'azienda e sono a rischio i livelli occupazionali e il diritto alla mobilità dei cittadini. Il sindacato ricorda che per responsabilità dei governi nazionali e della giunta regionale della Campania in questi anni il servizio di trasporto pubblico locale nella nostra regione è fortemente peggiorato qualitativamente e quantitativamente determinando una giustificata disaffezione e ribellione degli utenti. Spesso ha precisato, i dipendenti dell'azienda sono stati oggetto di proteste critiche pur non essendo essi stessi vittime di un degrado progressivo del servizio di trasporto determinato da scelte politiche scellerate.